Questo è lo Stelladatta di Stellavox nella versione rivista da Sonosax. Si tratta di un vero mostro nella storia della registrazione, assai raro da trovare e un apparecchio che vanta una grande versatilità per le più svariate applicazioni a livello professionale. Progettato e costruito senza alcun compromesso, è la versione rivista da Sonosax per migliorare l'affidabilità della prima versione dello Stelladatta. Ha un'autonomia di circa 10 ore con un unico battery pack e ha svariate possibilità di alimentazione commutabili fra loro senza dover interrompere la registrazione in corso. Si tratta di un apparecchio che ha fatto la storia e che era veramente un riferimento nell'ambito della registrazione. Ha in dotazione una borsa in custodia tracolla che era stata dedicata a questo apparecchio. Tra parentesi questo modello è stato utilizzato incredibilmente solo per poche ore e sono disponibili le istruzioni originali. Grazie a tutti. Grazie a tutti.